Siamo tornati qui il giorno dopo, stamattina, abbiamo fatto questa bella biciclettata, siamo ripassati dal centro storico. Ieri sera abbiamo chiuso il tour dei quartieri dove tutto è cominciato, quindi nel cuore della città, nel nostro bellissimo centro storico. Abbiamo fatto una bellissima serata con tantissima gente, come al solito abbiamo parlato di programmi, dell'idea che abbiamo per rilanciare il centro storico. Con pochissimo sforzo abbiamo riaperto tantissimi locali dove artisti, artigiani hanno proposto le loro opere, la loro arte, i loro prodotti, prodotti tipici, prodotti che vanno riscoperti e quindi il centro storico per una serata è tornato a vivere come dovrebbe essere per gli altri 364 giorni all'anno. Abbiamo dimostrato che davvero con poco si può arrivare alla svolta, anche per quanto riguarda il centro storico. Ovviamente ci sono problemi ormai datati che vanno finalmente affrontati, bisogna completare la riqualificazione totale del centro storico, bisogna inserirlo all'interno di un sistema che riguarda tutta la città di Biceglie, bisogna finire di portare le opere di urbanizzazione, la metanizzazione per i locali e le case dove non è ancora arrivato e quindi c'è anche tanto lavoro da completare. Però il tutto passa attraverso la consapevolezza che il centro storico è il cuore pulsante della città, è la nostra identità e attraverso la riqualificazione e la rivalorizzazione del centro storico passa anche il futuro della città di Biceglie.